In una lista delle best dressed del 2016 non può mancare Blake Lively. Grazia e classe innate le permettono di indossare con eleganza abiti romantici come quello di Vivienne Westwood Couture indossato a Cannes, sexy come quello di Atelier Versace sfoggiato sempre sulla croissette, originali come il Barbary dei Met Gala e sbarazzini come la gonna in tulle scelta per la premiere di The Shallows disegnata invece da Carolina Herrera. Tra le più eleganti dell'anno anche Alicia Vikander Oscar per The Danish Girl che veste con eleganza i modelli di Nicolas Ghesquière per Louis Vuitton. Ci sono poi Jennifer Lawrence ormai icona di Dior, Lily Collins che sceglie outfit sempre ricercati e mai ripetitivi come questo bellissimo abito firmato Elisab indossato ai Critics' Choice Awards ed Eva Green sempre in Elisab sul tappeto dei Golden Globe. Semplice ma d'effetto è l'eleganza di Brie Larson premiata con l'Oscar per migliore attrice protagonista con indosso questo abito Gucci. Più ricca è invece l'eleganza di Cate Blanchett con i fiori applicati sull'abito color Tiffany firmato Armani. Con il portamento di una dea greca Natalie Portman ha scelto Valentino per mostrare il suo pancione sul tappeto rosso della mostra del cinema di Venezia. Emma Stone si conferma tra le più trendy dell'anno grazie a questo sofisticato ma anche un po' rock cutout dress di Roland Mouret. Tra le giovani leve merita un posto d'onore Elf Henning che alterna eleganza sbarazzina adatta alla sua età, ricordiamo che ha 18 anni, ad abiti più sofisticati che osano anche qualche trasparenza come questo di Elisab indossato alla premiere londinese di The Neon Demon. Grazie a tutti.